Una vicenda quella che vi racconto che sinceramente ha dell'incredibile, però è comunque un qualcosa che vale la pena di essere raccontato fra i vari misteri che circolano a Firenze. Bene, signori, è il 16 settembre del 1824. A Firenze il figlio di Carlo Alberto, re d'Italia, sta dormendo nella sua culla. Quando a un certo punto la balia, o un altro personaggio esattamente, non si sa, entra nella stanza per uccidere le zanzare che stanno tormentando il bambino con una candela. Sta di fatto che dà fuoco alla zanzariera che è sopra la culla e scoppia un incendio. Questo incendio appunto fa prendere fuoco a tutta la culla e alla stanza e il bambino, appunto il principe ereditario, viene salvato miracolosamente dalle fiamme. Tenete presente che la balia morirà due giorni dopo per le ostioni riportate e che appunto sul luogo, ovviamente dove va fatta un'indagine, si scoprirà che la culla è completamente combusta e che il materasso dove il bambino era appunto è praticamente bruciato quasi interamente. Ne rimane solo un terzo non bruciato. Certo è che il fatto che il giorno successivo il bambino venga mostrato in perfette condizioni di salute, senza neanche una minima ostione, bruciatura o cose del genere, ma in perfetta salute, lascia tutti piuttosto interdetti. Ed è qui che comincia il mistero. Il mistero prevede che il figlio del re di Carlo Alberto sia morto in realtà quell'estate e sia morto nella culla bruciato e sia stato sostituito con un altro bambino preso praticamente da un bambino della stessa identica età che aveva in quel momento il principe ereditario che poi sarebbe diventato Vittorio Emanuele II. Di chi era questo figlio? C'è un nome e cognome addirittura. Gaetano Tiburzi, un macellaio di Porta Romana. Certo, è una cosa strana, in effetti il macellaio denuncerà nello stesso momento, negli stessi giorni, la scomparsa del proprio figlio della stessa età del principe ereditario. Allo stesso tempo, lo stesso Tiburzi, dopo poco tempo, acquisterà, era un macellaio, insomma, non una persona particolarmente ricca, acquisterà un intero palazzo, all'interno del quale in basso aprirà una propria macelleria e diventerà ricco, sarà ormai una persona ricca, facoltosa. Queste due cose, unite all'altra, danno il primo spunto di riflessione, perché, insomma, è una cosa piuttosto strana. Nessuno capirà come il Tiburzi, appunto, chiamato, così, con soprannome, come avviene spesso a Firenze, il Tanaka, appunto, diventerà improvvisamente ricco e di suo figlio, praticamente, non si avranno più notizie. Ora, tutto questo potrebbe rimanere esclusivamente una diceria. Certo che ci sono delle cose strane, perché Vittorio Emanuele II, crescendo, va bene, dimostra di essere molto diverso dal ramo della famiglia, appunto, nobiliare, dalla quale proviene, cioè da Vittorio, da Carlo Alberto, appunto, e dalla madre. Carlo Alberto è alto quasi due metri, e, invece, Vittorio Emanuele II, un metro e cinquantasei, un metro e cinquantasette. Tutti in famiglia sono, sia la madre che il padre, appunto, il re e la regina, sono slanciati, nobili di fattezze, e lui, stranamente, invece, è tozzo, piuttosto grezzo, nei linamenti, e non certamente sembra avere niente a che fare con la famiglia, appunto, regnante. Oltretutto, poi, rimarrà comunque un re piuttosto grezzo e ignorante, non amerà mai lo studio, cosa che, invece, era tipica di tutto il resto della sua famiglia, e sarà uno che preferirà la caccia, preferirà i grandi pranzi, le grandi cose, e, tra l'altro, preferirà anche la vicinanza, al di là di quello che sarà il matrimonio ufficiale, insomma, la vicinanza di personaggi del popolo, specialmente una donna del popolo, ignorante come lui, con una scarsa cultura, e, diciamoci la verità, con un basso livello culturale, anzi, bassissimo livello culturale. Tutte queste cose lasciano piuttosto interdetti, e lasciano, appunto, questo grosso alone di mistero. Allora, cosa si può dire? Che uno dei regnanti, come dicevano a Napoli, e come hanno continuato a Napoli a dire, figlie zoccole, come dicevano a Napoli, appunto, parlando di Vittorio Emanuele, secondo, proprio in riferimento a questa, che, sì, era una diceria, era sicuramente una, se volete, una leggenda metropolitana, però, che, a ben guardare, potrebbe, potrebbe, dico, anche avere qualche risvolto di verità.